Io penso che in attesa dei vaccini e speriamo che si chiarisca tutte queste vicende dei vaccini e si possa passare ad un lavoro a tappeto dei vaccini che devono essere fatti nei luoghi di residenza quindi speriamo che si facciano negli ambulatori e non più questa telenovela di spostare su Peso, Rubino e Fano da tutti gli resti dei comuni della provincia e la regione Marche e quindi anche la provincia di Peso, Rubino è una situazione molto difficile nel senso che gli ospedali sono pieni, i prodotti di soccorso sono in difficoltà, aumentano i contagi e quindi bisogna fare quello che c'è scritto nel provvedimento per quel che riguarda le zone rosse vuol dire uscire solo ed esclusivamente per rifornimento di alimentare, per ragioni di salute e per lavoro per il resto bisogna stare in casa. Noi abbiamo fatto un'ordinanza sulla base di un orientamento della Giunta di ieri pomeriggio in cui vietiamo l'utilizzo dei parchi, dei giardini, delle aree perché c'è una movimentazione di persone che tende a far aumentare i contagi quindi bisogna stare attenti se si vuole uscire da questa vicenda del Covid prima dell'estate vuol dire che almeno adesso fino alle feste di Pasqua bisogna uscire per le strette necessità che sono appunto quelle del lavoro dell'alimentazione e se uno ha problemi di salute, se no bisogna cercare di stare a casa se vogliamo salvare la pelle e se vogliamo far sì che quando arrivano i vaccini si possono fare rapidamente a tutti e quindi ci sarà l'immunità di gregge, si salveranno anche coloro che non fanno i vaccini io credo che il vaccino dovrebbe rendere obbligatorio e tutti dovrebbero fare il vaccino perché se io non lo faccio contagio un altro quindi commettono un reato secondo me anche se dice che non è obbligatorio e quindi spero che quanto prima si possa concludere questa vicenda invitiamo per una settimana di evitare di andare nei parchi a fare assembramenti non fate assembramenti nella maniera più assoluta e poi se tra una settimana c'è un calo dei contagi revocheremo anche l'ordinanza